Non solo l'appello contro la condanna a 14 anni e 4 mesi di reclusione, la difesa del 52enne Giuseppe Cinardi chiederà di ottenere una misura alternativa alla detenzione in carcere. Cinardi è stato condannato dal GUP del Tribunale di Gela al termine del giudizio abbreviato con l'accusa di aver ucciso il cognato 33enne Maurizio Peritore. In base alla ricostruzione degli incurenti si sarebbero affrontati tra i viali delle palazzine popolari di Viattica, una coltellata inferta dall'imputato si rivelò fatale per la vittima che a sua volta aveva colpito il rivale. Dopo l'aver detto di primo grado, la difesa sostenuta dall'avvocato Salvo Macri aveva già presentato istanza per ottenere una misura diversa dal carcere. Secondo il legale, Cinardi andrebbe sottoposto ai domiciliari, soprattutto sulla scorta di quanto deciso dal GUP, che ha escluso la premeditazione e ha riconosciuto le attenuanti generiche. Il PM Luigi Rovalvo al termine della requisitoria aveva chiesto 30 anni di detenzione. Non sarebbero state prese in considerazione secondo il legale le dichiarazioni rese da Cinardi in due diversi interrogatori e il comportamento processuale ha subito ammesso di aver colpito Peritore, ma secondo la versione fornita si sarebbe solo difeso dall'aggressione del cognato. Tutti aspetti che la difesa indica nel ricorso incidentale che dovrà essere valutato dai giudici chiamati a decidere su un'eventuale misura alternativa. Cinardi intanto attende che venga fissato il giudizio di appello durante il quale la difesa cercherà di ribaltare la sentenza di primo grado. Secondo il legale, ci sono tutti i presupposti per il riconoscimento della legittima difesa. Per Peritore non ci fu nulla da fare. Il suo corpo, dopo la colluttazione con Cinardi, venne trovato dai carabinieri nei pressi di una palazzina di viattica. L'ennesima lite tra i due sarebbe degenerata a causa del danneggiamento della vettura della vittima. Sia la madre che il fratello si sono costituiti parti civili con gli avvocati Giacomo Ventura e Maria Elena Ventura. Gli è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni. Durante la colluttazione venne ferita anche la moglie di Peritore.